Il busto del Salvatore Mundi è l'ultima scultura di mano del genio del barocco Gian Lorenzo Bernini, eseguita nel 1679 quando l'artista aveva ormai 80 anni e da lui lasciata in testamento all'amica e committente la regina Cristina di Svezia. L'opera per tanti anni fu ritenuta perduta ed è stata riscoperta definitivamente nel 2001. Dalla Basilica di San Sebastiano, fuori le mura a Roma, dove custodita arriverà ad Agrigento e dal 20 febbraio fino al 25 aprile sarà ammirabile presso l'ex monastero di Santo Spirito. Gesù Cristo, il Salvatore, è raffigurato più grande del naturale, 103 centimetri, con la mano destra leggermente sollevata come in atto di benedire. Bernini attribuiva particolare importanza a questo divino simulacro che egli chiamava il suo Beniamino, cui dedicò tutti gli sforzi della sua cristiana pietà e dell'arte. Sul Salvatore Mundi interviene il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Sulla vicenda del prestito ad Agrigento da parte del Ministero dell'opera di Gian Lorenzo Bernini, Salvatore Mundi, ancora una volta si sta cercando di discriminare il Sud e in particolare una città con 2600 anni di storia è un immenso patrimonio archeologico monumentale che ha pochi uguali nel mondo. L'esposizione dell'opera Marmoria del Bernini è un omaggio alla storicità di questa città, da sempre culla di antiche civiltà e accostare la contestuale Sagra del Mandorlo che da 71 anni festeggia la precoce primavera che fa imbiancare di fiori la millenaria Valle dei Templi riducendola ad un fatto paesano e pura disinformazione, per non usare il termine speculazione. Prosegue Firetto, annualmente il parco archeologico e il museo sono visitati da oltre 600 mila persone e il prestito temporaneo dell'opera del Bernini per un raffronto seppur minimo tra l'arte del Seicento con il barocco siciliano rappresentato dai pregevoli stucchi del Serpotta che cingeranno la preziosa opera del Bernini nella chiesa del complesso monumentale di Santo Spirito e operazione di grande respiro culturale. Non si comprenderebbe per quale motivo il possibile trasferimento dell'opera in prestito alla città di Monza avrebbe maggiore dignità rispetto alla città di Agrigento. Opere come il busto realizzato da Bernini sono patrimonio del paese, non della capitale né di singole città, conclude Firetto.